Ti sembra prudente? Mi piace rischiare. Quante volte i bambini dicono Mamma, mamma, non lasciarmi, è buio. Vero, eh? E di notte poi? Oh, ma è svegliato. È buio. Succede, eh? Ma da oggi c'è notturna Beghelli, la lampada portatile e ricaricabile che poi di notte si trasforma. Fuori la spina, dentro la presa ed ecco che diventa una luce guida verde e soffusa. Grazie, mamma. Fantastica. Notturna Beghelli, portatile per il buio, luce guida per la notte e in più luce d'emergenza. L'uomo sa cos'è. Denim Aftershave. Tonifica e protegge. Ha uomini duri, maniere dolci. Denim. Per l'uomo che non deve chiedere. Bye. Five, four, three. Wait, what's that red light? Woo! Oh, yeah, yeah. Got my mind made up and I know what I want. Got my mind made up and I know what I want. Dig it. Feels good. Oh, yeah. Let's do it. Non so voi, ma io bevo Aperol. Le vibrazioni possono disturbare le immagini, ma oggi Philips 100 Hertz con Digital Scan cancella ogni vibrazione per darti immagini ancora più limpide e rilassanti. Philips 100 Hertz con Digital Scan. Un'immagine mille volte più stabile. Lenore presenta... Nuovo Lenore Ultra. L'ultra morbidezza che ti fa risparmiare. Così tanta morbidezza in una bottiglia così piccola. Basta solo un tappino di Lenore Ultra per darti una morbidezza straordinaria. Ascolta che differenza in morbidezza. E poi Lenore Ultra. Sorpresa, sorpresa. Dura il 33% in più di prima. Così risparmio. Nuovo Lenore Ultra. Ultra la morbidezza. Ultra il risparmio. E aspetta, ho capito. Un casuale atto di coraggio. Non scappa da 100 dollari questo. Trasforma un uomo della strada in un eroe. È un impostore. Ma c'è un piccolo problema. Il vero eroe è qualcun altro. Dustin Hoffman, Gina Davis, Andy Garcia. Un senza detto imbroglione, un vagabone. Eroe per caso, di Stephen Frears. Un pulito e una trasparenza così. Finish gel liquido. Anche a limone. Per un pulito ancora più profondo. Per una protezione ancora più naturale. Ava più. Più concentrato. Più pulito. M&M's è il cioccolato ideale in ogni occasione. Non solo per il delizioso cioccolato al latte e neanche per i divertenti colori. Ma soprattutto perché M&M's è il cioccolato al latte che si scioglie in bocca, non in mano. E' il cioccolato al latte e neanche per i divertenti colori. E' il cioccolato al latte e neanche per i divertenti colori. Oriente, per questo possono venderli a metà prezzo. Andiamo a vederli. Già fatto, cara. Standa con i suoi esperti, certifica qualità e provenienza. Speravo tanto che vi sia...